Il prossimo film sarà con Milo Manara sui suoi disegni, quindi che cosa sta succedendo tra lei e Milo Manara? In questo momento stiamo preparando il film e speriamo che Milo Manara possa venire al Nessico per fare tutta la questione di arte del film e per fare un film realmente di Milo Manara e di Federico Fellini. Che bello! È vero che Federico Fellini voleva che questo viaggio rimanesse segreto, non ci sono foto, non ci sono video? Sì, no, non sono niente foto, niente video, era un viaggio assolutamente segreto, sciamanico e personale, il che era che era molto personale.